Ben tornati a SOS Agrizzotv, siamo in Piazza Grande, ciao Beppe, si è voluto mettere comodo? Sì è logico, ma che ci sera approfittiamo dell'ospedalità che ci dà il bar, no? L'intico bar di Piazza Grande, salutiamo Enzo. Enzo, sì. Ci dovrebbe dire i suoi peccati anche tu. Cosa dice? Niente. Tanto dice queste cose, ma non sento che le capisce nessuno. Ma perché no, le capiscono tutti, sento che sei un po' tu. Bene, ok. Allora, siamo qui in Piazza Grande per vedere che purtroppo l'affluenza non è sempre quella. L'affluenza in questo periodo qui è drammatica, ecco, ma non solamente per noi, ho sentito anche un po' in giro. Questi periodi qui, gennaio, febbraio, anche marzo, poi dopo inizia qualche gita, ma questo periodo qui è proprio, poi basta vedere. Sì, sì, sì. Il mercatino di Natale quanto vi porta di lavoro? Buono, sì? No, il mercatino di Natale porta in quel periodo lì, perché se no sarebbe un periodo morto. Anche se quest'anno, rispetto all'anno scorso, sia noi operatori che anche il mercatino tirolese stesso, sarà stato perché l'anno scorso c'era la novità. Ma, ecco, quest'anno, per sentire da dire, anche loro hanno lavorato molto meno, molto meno. Si sente la crisi, non ci entra a fare. Sì, è durato anche di più. Sì, è durato di più, però, come diceva Beppe, sarà un po' la crisi, sarà un po' che era la novità. L'anno scorso, quest'anno, è stato un pochino… Sarà che quindi la gente conosceva, nonostante lo sbandieramento delle centinaia e migliaia di presenze, però la gente conosceva mal gli articoli e non ci ha comprato. Si è parlato di centinaia e migliaia di persone? Si, parlavano di centinaia e migliaia di persone, come dicevi te, e ci avevano detto che avevano interpellato il tuo operetto, che dovevano portare il boom, ma che non si sono visti. Il boom che c'è stato, c'è stato, la prima settimana, ecco, io devo essere sincero, la prima settimana, sabato e domenica, c'è stato veramente un afflusso… Infatti aveva visto quella foto dall'alto della domenica che ha preso… Esatto, però dopo è andato incalando, incalando. Bisogna studiare qualcosa… Nello stesso tempo, in quel periodo lì, anche, diciamo, rispetto all'anno scorso o meno, però a noi ci ha voluto dire, ecco, meglio di niente, perché se no… C'era niente, manco l'albero… Esatto, esatto, esatto. Comunque, bisognerebbe forse studiare qualche cosa anche in questo periodo, perché per voi comunque aprire tutti i giorni, immagino che sia uno sforzo, non indifferente. Aprire tutti i giorni, le più volte… È dura arrivare dalle 8 alle 4, alle 5, alle 6… E fortunatamente, quando c'è le giornate così, perché se no alle 4 qui è un buio pesto, è una tragedia, in questo periodo… L'illuminazione è stata fatta perché la sovrintendenza a suo tempo la volle così, perché doveva essere soffusa, perché la piazza era più bella, metteva più risalto un po' le opere… Lo so, però qui è buiosa, è buiosa. Anche la mattina per la fiera stessa, che io apro presto, alle 5 e mezzo, alle 6 il sabato, alle 7 la domenica… Le più volte gli accendo i fari io fuori, perché qui è un buio pesto, d'inverno, d'inverno qui alle 5, non diciamo è pericoloso perché… Però insomma, dai, doveste chiudere una donna oppure… Qui non c'è nessuno, e poi basta vedere un pochino in giro, non c'è nessuno. Ecco, una piazza che vediamo pulita, mi dicevi prima che qualcosa è migliogato, no? Sì, no, devo essere sincero, qualcosa anche durante la settimana, durante il pomeriggio, vedo che anche passa i spazzini, prima… Ma anche Fraternita sta facendo delle attività adesso? No, 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 la Fraternita gli devo dare atto al Dottor Rossi, perché noi, da quando c'è il Dottor Rossi, ci ha portato a visitare il palazzo dentro, perché noi, molti, non si conosceva nemmeno. Sta facendo alcune iniziative, però… Non può trovare gente ancora? Ora ci dovrebbe essere un'asta di, non lo so, da marzo, che speriamo che porti un pochino di gente… La scuola di musica… Sì, la scuola di musica… Quella ancora, no? La scuola… Questa di sopra, sì… Questa sì, la scuola di musica… Ah, sì, 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 dovrebbe venire, però… Da quando andai a giovi al tribunale… È dura, è dura, 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 dura. D'altronde, guarda, io ci pazzicavo per lavoro, quindi so benissimo cos'erano le problematiche del tribunale qui, prima di tutto l'organizzazione interna era veramente impossibile in un palazzo così vecchio, e poi anche l'ubicazione era veramente inferiore… Quello sicuramente, quello sicuramente, però dal 2007 quando andato via… Perché qui, magari uno viene qui luglio, agosto e settembre, vede che c'è un afflusso di gente, ma il problema è altro… È tutto l'anno? È tutto l'anno. Poi anche la fiera antiquaria, una volta che era… Prima era un traino, diciamo, io parlando anche con i ristoranti che sono da tanto, che sono qui prima di me, mi dicevano che bastava quei due giorni della fiera che per compensare, diciamo, gli altri giorni in questo periodo… Ora anche la fiera è calata, sia come numero di espositori… E poi non c'è più movimento, la crisi si fa sentire… E purtroppo è un bene particolare, sai, la gente si sa avvicinare al momento in cui può, quando non può è un bene che ne fa volentieri a meno. Poi il mercato si restringe sempre più, i prodotti antichi in Italia non si trovano più, vanno a trovarli all'estero, quindi non sono tradizioni nostre, quindi è sempre un po' più difficile. Sì, sì, no, ma è così, io senti da dire, poi sono calati in un modo esponenziale, anche gli espositoristi. Andrebbe sicuramente fatto qualcosa, ma ancora non ci si sente sotto questo aspetto, perché ci sono dei mercati nel settore dell'antiquariato che stanno trainando in modo poloso, e quindi andrebbero allargato a questa fiera, tipo automoto, d'epoca, tutto modernariato. Io per dire l'ultima fiera, è vero che c'è stata tutte le volte la scusa a maltempo, una volta nevica, una volta piove, una volta è freddo, però qui in piazza c'era dei voti che la gente che viene andrebbero, dal momento che sono calati come numero di espositori, andrebbe rivisto un pochino reaggruppati in un modo da dare anche una visione un pochino di vuoto, perché qui c'era un vuoto pauroso. Peccato anche queste scritte qui per scendere da queste scalinate, l'abbiamo fatta anche qualche mese fa e vi parla la situazione nei campi. Ho visto che adesso sono state finanziate le opere per il rifascimento dei piloni. Sì, li dovrebbero fare, ho letto nei giornali che nel 2017 dovrebbero fare l'Oggi Vosari, effettivamente hanno un bel bisogno, perché anche quel vedere quei legni lì, molti mi chiedono, dicono ma a che servono? Cioè uno cosa gli risponde? A tenere il pilone, perché sennò è giù. Bene Enzo, io ti ringrazio di questa chiacchierata, Beppe ci vediamo domani. Ciao.